È stata tosta perché il ritmo è veramente veloce, però avevo un piccolo problema col cambio in scalata e ho bruciato un po' troppo la frizione in partenza e non scalavano più bene. Nella fine era veramente difficile, ce l'ho messa tutta e sono contentissimo per questo terzo posto e siamo costanti e Argon ci riproveremo.